Con la PC aziendale non inquino e poi mi fa sentire di umore verde anche quando a volte le giornate iniziano sorte. Ciao! Sì, sono arrivata proprio adesso. Salgo subito e te le vado a prendere. Ma l'hai dimenticata stamattina? Ah, va benissimo. Sì, sì, mi muovo. Ciao, ciao. Ciao, devo prendere le chiavi dimenticate dal mio collega. Vedo che sei sempre in ottima compagnia. Almeno qui dentro non devo combattere contro l'inquinamento perché qui la qualità dell'aria è sempre sotto controllo. Mi piace che la mia azienda la pensi come me quando si parla di aria pulita. Ciao! Sì, le recuperate io le chiavi, le avrei lasciate in reception. Non preoccuparti, non appena possibile ci penso io a farti cambiare aria. Ciao! Ciao!